Da tre anni abbiamo ripensato insieme ai ragazzi come rivedere lo spazio dell'aula, che non è più l'aula chiusa fra quattro mura, ma uno spazio che si è aperto. Si è aperto a tutti altri spazi convenzionali e non. Il punto di forza di questo modo di fare scuola è stato l'utilizzo e la ricerca di spazi complementari all'aula. Siamo andati oltre le quattro mura dell'aula, ci siamo spostati nei corridoi, abbiamo visto il corridoio diventare uno spazio attivo e funzionale a ciò che noi serve. Esponiamo, guardiamo, condividiamo e discutiamo. La nostra aula di arte è a attrezzata come un laboratorio. Non ci sono i banchi frontali, i ragazzi lavorano in piccoli o grandi gruppi, in postazioni ad isole, dove tutti hanno la possibilità di, muovendosi, di produrre e di elaborare e di conoscere tutte le tecniche.